La nostra storia ci ha allenato a trovare nuove soluzioni. Le mete conquistate sono il segno di nuove partenze. Siamo pronti ad affrontare le sfide di oggi per raggiungere insieme a voi nuovi traguardi. Siamo orgogliosi di presentare la 31esima edizione di Samoter a Verona dal 21 al 25 marzo 2020. Il cuore delle macchine per costruzioni continua a battere nelle nostre vene. Follow the beat. Tutto il comparto si riunisce a Verona per toccare con mano il meglio dell'innovazione tecnica e tecnologica in esposizione. Movimento terra. Sollevamento. Frantumazione ed emolizione. Veicoli cavacantiere. Calce e struzzo. Componenti, motori, ricambi. Perforazione. Software e servizi. Noleggio. Asfaltica. Macchine e attrezzature stradali. Samoter. Una vetrina completa che abbraccia tutti i settori delle macchine per costruzioni. Grandi aree dinamiche. Un ricco programma di iniziative speciali. E attività formative. Destinazione Verona. Il crocevia geografico ed economico d'Europa. A Verona Fiere. Un quartiere ridisegnato per valorizzare al meglio macchine e attrezzature. Impianti. Componenti e soluzioni per il cantiere del futuro. Samoter. Follow the beat. Il cuore delle macchine per costruzioni. Batte in Italia. Ti aspettiamo a Verona. 21-25 marzo 2020. Samoter.it